Passa qualche giorno, dopo qualche giorno il direttore dell'infermeria era il capitano di Vascello Pons, anche se in realtà già erano entrati in vigore questi nuovi gradi, prima invece si diceva colonnello medico, adesso capitano di Vascello, noi però avevamo ancora la vecchia terminologia, lo chiamavamo colonnello, non si capiva com'era, insomma fine della storia, che cosa succede? Succede che questo mi chiama, io ci vado un po' timoroso, dico chissà che ho combinato, non so come va a finire, invece lui mi dice prego si accomodi, quando ti dicono si accomodi ti si rizzano i capelli, quei pochi che hai in testa, quando ti dicono si segga, hai capito che dovrebbe essere quasi una deportazione in qualche carcere militare, invece lui con estrema serietà mi dice guardi noi sappiamo che lei ha esperienza universitaria, viene dall'università, d'altra parte è il più anziano degli ufficiali di complemento che abbiamo del 50esimo corso, noi abbiamo un'esigenza a Maris Pesani che è l'ispettorato di sanità, l'ammiraglio Tatarelli che è il nostro capo dell'ufficio, quello delle pubblicazioni chiamiamolo studi, va in pensione, non abbiamo chi mettere in quella posizione, data la sua esperienza pensiamo che lei possa essere la persona adatta, dovrà gestire gli annali di medicina navale, dovrà gestire la biblioteca, dovrà praticamente mettersi a disposizione dell'ispettore che era l'ammiraglio Spena, dico vabbè, dico io tutto va bene ma io come firmo? No, no, lei non firma relativamente, lei firma come ha detto all'ufficio studi ma la firma resta a me che sono tra l'altro a doppio incarico il capo dell'ufficio dell'ispettore e quindi in questa maniera lei è protetto, e vabbè, dico allora io quindi lascio l'infermeria, non farò la guardia? No, 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 lei non lascia nessuna infermeria, lei continuerà a fare la guardia, mai una fortuna nella vita, a fare la guardia e il doppio incarico e quindi lei farà due cose per la marina militare, e vabbè, e comincia questa mia avventura, abbastanza divertente per certi versi, perché ero nel comando dell'ispettorato di sanità, quindi avevo la possibilità anche di vedere cose che altri non vedevano. Prima fregatura, come arrivo l'ammiraglio Marseghi, che era amico di mio padre, il vice ispettore, mi prende di punta e mi schiaffa una comandata, mi dice c'è una mostra all'Eur della sanità, la marina è presente con un padiglione, con uno stand e lei assumerà l'incarico di rappresentare la marina, è un incarico di grande prestigio, le assegneremo 10 CSR, CSR sono i cannelli servizi di rappresentanza dell'epoca, adesso i servizi di rappresentanza vi fa una compagnia della brigata marina, all'epoca invece c'erano questi cannonieri, che erano poi i corazzieri della marina, quindi lei va lì, le diamo l'autista, il pulmino, questi 10, lei starà lì per questa settimana, rappresenterà la marina, mi raccomando, è la persona adatta, ci tiene alla divisa, e quindi noi andiamo lì, il primo giorno grande festa, grande arrivo di gente, arrivano le ragazze, abbiamo i gadget, gli diamo le cartoline, le stupidaggini, eccetera, viene il ministro, che era credo il ministro Ripamonti, che era il ministro della sanità, quindi noi veniamo visitati, c'è una fotografia in cui sono in seconda fila rispetto al ministro, eccetera, eccetera, grande festa, dal giorno dopo mortorio assoluto, non viene più un cane, ma proprio nessuno, quindi io la mattina prendevo questo pulmino, trascinavo questi 10 disgraziati con me, ancora mantenevo la disciplina, perché siccome ero di complemento, non ero considerato un firmaiolo, come dicevano loro, quindi mi consideravano di leva e quindi mi rispettavano, però il tempo passa, questi erano costretti a stare col berretti in testa, con le ghette, col cinturone, e diventa sempre più difficile mantenere la disciplina, quindi questi cominciano a levarsi le ghette, a stravaccarsi, che gli dai, gli arresti, no, insomma, io comincio pure a stufarmi, comincio a girare per gli stand, a far passare il tempo in qualche maniera, la sera non arriva mai, siamo arrivati all'ultimo giorno, grazie a Dio, e naturalmente l'ultimo giorno quando stiamo stravaccati arriva il vice ispettore in ispezione allo stand della Marina, una figura da pera cottari, una così non era successa mai, però insomma io avevo il mio prestigio, me la cavo bene, il mestiere che facevo lo facevo bene, soprattutto dirigevo benissimo gli annali di medicina navale, di questo il mio capo era contentissimo, perché avevo esperienza di pubblicazione all'università, eccetera. A un certo punto vengo richiamato dall'ammiraglio che mi convoca, io vado dall'ispettore ammiraglio Spena e mi dice guardi è morto l'ammiraglio, adesso io non mi ricordo, era morto un vecchio ispettore, dice lei dovrebbe scrivere un necrologio, mi raccomando, andrà praticamente nelle prime pagine del giornale, mi raccomando stia attento, eccetera, eccetera, benissimo, scrivo sto necrologio, vado in tipografia, curo le bozze, controllo che non ci siano errori di battitura, errori di ortografia, errori di stampa, il direttore della tipografia dice dottore a lei gli errori, niente, lei li becca tutti, lei è un correttore di bozze formidabili, esce il giornale, la copia va sulla scrivania dell'ammiraglio Spena, sul titolo c'è un errore di stampa, prendo un cazziatone che ancora me lo ricordo e quindi va bene, questo è uno degli aspetti, un'altra volta mi chiama il mio capo Ponce e mi dice venga a Marinferm, dico ma guardi gli ammiragli, era diventato ammiraglio, io sto qua l'ispettorato in Marispe, no no, venga, venga perché viene in visita il sotto capo di stato maggiore, ammiraglio Baldini, tanto lo so che quello è amico suo di suo padre, quindi venga, si mette la sciarpa e lo riceve lei, ma veramente non ci sono, no, venga e buonanotte, allora l'ammiraglio Baldini che era sotto capo di stato maggiore della Marina era un amico di mio papà, era un signore molto simpatico, allora mio padre in quel periodo stava lasciando l'incarico, era destinato al comando Marina e aveva l'incarico di capo ufficio difesa della piazza di Roma e a un certo punto l'incarico era scaduto, lui era un capitano di fregata anziana, doveva essere promosso capitano di vascello, lo vogliono mandare alla scuola NBC dell'esercito, mio padre non ha mai avuto una grande simpatia per l'esercito, ha cominciato a dare di matto, nel senso che era scontroso, gli scocciava, vabbè, fine della storia, arriva l'ammiraglio Baldini, fa il giro dell'infermeria, viene presentato e poi naturalmente lo accompagno all'uscita dove naturalmente gli devono essere resi gli onori, andando via mi dice, come sta tuo padre? Bah, dico, ammiraglio, è un po' nervoso, scocciato, ma perché che gli è successo? Bah, dico, è scontento perché pare che gli abbiano cambiato la destinazione, lo vogliono mandare alla difesa del NBC, non è molto contento, ma guarda, ma perché non è contento? Bah, perché lui con l'esercito non ha simpatia, vabbè, salutamelo, io non so perché a mio padre fu cambiata la destinazione, andò a Bari e perso Roma, non capì mai chi lo avesse raccomandato in realtà e quindi questi erano degli aspetti abbastanza divertenti, però a certo punto uno se fa servizio in marina in qualche modo deve fare il servizio fino alla fine, quindi io non vedevo l'ora di imbarcare, ma lì praticamente ero incatenato al lavoro che facevo, nessuno poteva fare il lavoro che facevo io, se non che sapere una possibilità curiosissima, c'è Naves Terome, il primo rifornitore di squadra della marina militare, era una vecchia T2 americana che era stata comperata da un nostro armatore che si chiamava Insom, se non mi ricordo male, Enrico Insom, però purtroppo sulla poppa di questa benedetta nave c'era sempre l'impronta del vecchio nome che era Cleveland e non siamo mai riusciti a levarlo, per cui scritto anche lo sterope sopra lo sterope, tra l'altro tutti si chiedono chi era, era un ciclope, perché la medaglietta della nave era sempre questo ciclope con un occhio solo e quindi mi convoca sempre il mio capo, mi dice, senta mi deve fare un favore, solita storia del favore, si mette a seduto eccetera, lei ci dovrebbe fare un favore grosso perché c'è questa nave che purtroppo è in via di dismissione, per cui c'è un equipaggio raccogliticcio, però siccome farà una navigazione isolata e quindi non potrà contare dell'assistenza medica delle altre navi, noi imbarchiamo temporaneamente per un mese un ufficiale medico e quindi abbiamo deciso che ci vada lei. Lei è d'accordo? Il movimento ce l'aveva già sulla scrivania firmato che volevi essere d'accordo. Già io, adesso faccio un inciso, già io a un certo punto avevo avuto un episodio del genere, nel senso che mi aveva convocato sempre una mattina e mi aveva detto guardi lei deve andare negli Stati Uniti a fare l'ufficiale medico su un sommergibile che stiamo acquisendo, il sommergibile si chiama Romeo Romei, il sommergibile è a Norfolk, lei andrà a Norfolk, farà quattro mesi di ambiestamento perché lei non è sommergibilista e quindi alla fine della storia sarà un'esperienza per lei e quindi lei andrà a Norfolk. Va bene, vado a casa, lo dico a casa, mia madre a questo punto dà di matto perché dice un altro sommergibile in questa famiglia ma neanche dovete passare sul mio cadavere, purtroppo l'episodio del Dagobur aveva lasciato il suo segno, io non so come uscir bene da questa storia, però siccome sono in un posto di prestigio, ho disponibilità telefonica perché la mattina dopo così con aria sorniona, acchiappo l'aria telefonica e mi faccio passare Taranto, l'ospedale di Taranto dove c'era un mio collega che invece era passato in SPE, il quale durante il nostro corso e l'accademia aveva fatto il concorso per passare in SPE e quindi era diventato sottotenente di vascello, noi eravamo guardia marina, lui invece era sottotenente di vascello, gliela butto lì, dico come stai, stai bene? Sì, sto bene, ma annoio, ma meno male per te che almeno non c'hai seccature, a me me ne è capitata una, ma che ti è capitato? Ma che ne so, ma non mi vogliono imbarcare, sono sommergibile, ti pare che io devo andare a Norfolk, sono sommergibile? Allora questo dall'altra parte silenzio di così, ma come sono sommergibile? Scusi, ma tu perché? Ma non so, me l'hanno chiesto, me lo dicono, ma come io sono effettivo, a me non me l'hanno chiesto, te l'hanno chiesto perché pensano magari che non sei adatto, ma come non sono adatto, io sono in servizio permanente effettivo, questa è una cosa che la devono dire a me per primi, senti, io non so che cosa dirti, poi se so io ho questo potere di modificare le destinazioni di Mari Pers, saluti, arrivederci, la mattina dopo stava già davanti alla porta del capo dell'ufficio, insomma nel giro di poche ore mi hanno modificato la destinazione, io sono rimasto dove stavo e lui è andato in America, beato lui che si è divertito. Allora ritorniamo a Nave Stero, allora quando io ero studente a Trieste, il mio papà era il comandante in seconda di Nave Stero, allora la nave era in auge, era venuta a Venezia per scaricare, a Venezia c'era un grosso deposito carburanti strategico, o tattico a seconda di come lo vogliamo chiamare e quindi aveva rifornito, cedendo parte del suo carico a questo deposito che c'era a Venezia e si erano fermati per una settimana, in quella settimana che coincideva con le vacanze di carnevale dell'università, mio padre mi aveva detto vieni a bordo con noi e stai una settimana con noi, quindi avevo fatto l'ospite pagante perché conoscevo bene anche il comandante che era un capitano di Vascello, all'epoca l'ostero per la caposquadriglia delle navi di appoggio, quindi il comandante era un capitano di Vascello, il comandante in seconda era un capitano di corvetta anziano che poteva poi diventare capitano di fregata, quindi io per una settimana sono stato imbarcato, conoscevo la nave come le mie tasche e conoscevo anche parte delle persone che c'erano a bordo, passa un po' di tempo, questo succede negli anni 71-72 mi pare, invece io nel 1975 vengo imbarcato con movimento regolare su nave Stelope come capo ufficio sanitario, anche se sono soltanto guardia marina, vado da mio papà, scendo, mio padre stava a fare il capo sezione a Mari Pers, scendo e dico guarda che ho il movimento per nave Stelope, dico ma come sta a messa? Dico guarda aspetta prendiamo il libro verde, il libro verde era una pubblicazione della marina che annualmente veniva fatta con tutte le destinazioni, io ero molto contento perché alla P c'era scritto Forzar Claudio capitano di Vascello e Forzar Francesco guardia marina con la rispettiva destinazione, dice guarda il comandante in seconda è ad Alberto Russo, di lui mi ricordo benissimo il cognome, che era un signore che aveva la casa quando stavamo a Taranto, aveva la casa di fronte alla mia, le palazzine Enci, lo conoscevo bene, lo conoscevo dalla della tenente di Vascello, quindi lo conosci bene e stai tranquillo, dice il comandante purtroppo io del comandante ho cancellato il nome, purtroppo è un grosso problema, e dico perché è un grosso problema? Dice perché questo è quello a cui tu un giorno gli hai detto che doveva cambiare mestiere, ti ricordi la regata a Taranto di di stare, quello prese il pontile, sfasciò la barca e tu gli dicessi se non è versato per questa attività cambia attività, beh è proprio lui quello là, dico ma porca miseria ma proprio questo non deve capitare, mi presento a Taranto, il regolamento va rispettato, il regolamento dice che ti devi presentare all'alza bandiera, cioè l'alza bandiera deve avvenire e tutti presenti a bordo, naturalmente uniforme invernale perché siamo praticamente nel mese di aprile, fine aprile, inizio maggio, sciarpa e sciabola, decorazioni metalliche io non ce l'ho, colletto duro e rovesciato ma io ho il colletto di plastica perché l'abbiamo cambiato, lascio la valigia alla testata del pontile perché nella veste ero perormeggiata al chiapparo, il chiapparo era una specie di banchina dove praticamente si ormeggiavano le navi a rifornirsi perché era il deposito carburanti e lo sterope faceva base lì perché lui era quello che si riforniva, riforniva eccetera, adesso quella zona è diventata la nuova stazione navale della marina, tutta un'altra cosa, io ce l'ho stato spesso perché quando mio papà era il comandante in seconda dello sterope io lo accompagnavo quando partiva, quindi andavo con la macchina fin sotto la nave, ormai avevo la patente, lui imbarcava eccetera, va bene, quindi arrivo la mattina c'è un fervore particolare, sono altre navi lì ormeggiate, si vede che la marina operante non è il ministero, sono questi che sono entusiasti, gente che va, gente che viene, navi operative, veramente l'atmosfera era piacevole, quindi io arrivo a bordo, salgo lo scalandrone, faccio il saluto di parammatica, mi riceve l'ufficiale di Sciarpa, che è l'ufficiale di ispezione, io mi presento, manca a farlo apposta, era un mio amico che abitava davanti a casa mia, si chiamava Santoro, saluti eccetera, poi gli dice, ma oh era ora che arrivassi, sono giorni che ti aspettiamo, ma come giorni, ma io il movimento, andiamo qua che ti accompagno al comandante in seconda, andiamo al comandante in seconda, quello si chiama comandante in seconda perché è un ufficiale superiore, mi presento, dice, ah bene mi fa piacere, è tanto tempo che non ci vediamo, bene bene, abbiamo piacere di avere un dottore in marina che ci conosce, allora l'accompagno dal comandante, vado al comandante, il comandante mi riconosce, rimane un poco acido, naturalmente a testimonianza della situazione che quando io mi sono presentato, ho presentato il movimento, le mie credenziali, lui le guarda con aria un po' seccata e mi dice va bene, lei è libero per il pomeriggio, può fare quello che vuole, l'importante è che sia a bordo qui a mezzanotte, per domani mattina non si disturbi perché noi partiamo alle 4, ma lei può tranquillamente dormire perché lei non è impegnato, io più acido di lui, gli rispondo al comandante da regolamento, io ho un posto di manovra e domani mattina lei mi troverà al posto di manovra, naturalmente che cosa succede? Succede durante la notte, arriva una corvetta della scuola comando, mette i cavi sulle bite e ci blocca il cavo, quindi noi non riusciamo a salpare fischi, suoni, trombe, c'è niente da fare, quelli dormono della grossa roba che bisognava fare di rapporto, nessuno sulla corvetta si sveglia, per fortuna io ho sempre avuto una voce stentoria, a un certo punto come si dice marina al lucco, tiro uno strillo, finalmente arriva un marinaio sonnolento, mollano i cavi, insomma riusciamo a partire in ritardo perché lo sterbo partecipa a questa operazione, una grande esercitazione della marina, rispettando la nuova terminologia della marina militare ha abbandonato i nomi inglesi delle esercitazioni e quindi prende parte a quella che si chiama esercitazione cratere ardente, una cosa terribile. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.